Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati sul mio canale Allora, oggi vi propongo un nuovo book tag Un book tag che non è solo nuovo all'interno del mio canale Ma proprio anche vita breve appena stato ideato Quindi si può dire che è un book tag nuovo Prima però di spiegarvi todos, devo salutare una persona In quanto devo salutare Alessandra Che mi ha chiesto gentilmente se potevo salutarla Quindi ciao Alessandra, un saluto da parte di me, dei miei libri Insomma, il mio canale ti saluta Vi lascio il link al suo canale, al suo canale, al suo profilo Instagram In quanto carica un sacco di foto di libri e sono davvero bellissimi Su Instagram si chiama Ale Riz Comunque vi lascio il link qua sotto per farvi vedere Se siete curiosi, questo Questo è quanto E vedo che stai leggendo Blue di Kirsten Gear Top, è lì ed è davvero bellissimo Sì, bellissimo Poi tornando a noi oggi voglio proporvi un nuovo book tag Book tag che è stato ideato da Frankie Frankie ha un blog Un blog e un profilo Instagram che si chiama TheBooksCatcher E' davvero molto 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 bello Io vi lascio il link qui sotto Storia buffa Anche per quanto riguarda Frankie Abbiamo scoperto che noi ci siamo parlati un attimo Abbiamo detto ma noi in realtà ci conosciamo di getto Ma come? Ma no? Alla fine abbiamo scoperto che abbiamo fatto la scuola nello stesso identico posto Quindi prima con Joe di Joe Rizzo Adesso con Frankie di TheBooksCatcher Ragazzi, davvero fantastico Dobbiamo organizzare una reunion qui il prima possibile Perché è davvero necessaria Ma quindi Frankie cosa ha creato? Ha creato questo book tag che come vedete dal titolo si chiama Animali Fantastici Book Tag E ha avuto la splendida idea di abbinare ad ogni animale fantastico un libro Ovviamente utilizzando le caratteristiche di questo animale Adesso Frankie io spero che non ti dispiaccia Non leggerò soltanto il punto del libro Ma leggerò anche la breve descrizione che hai fatto tu degli animali Così perché secondo me si capisce meglio il book tag e ha più senso Quindi io direi di iniziare subito Primo Asticello Ah, chiedo scusa se alcuni nomi degli animali li pronuncerò sbagliati o in modo errato Ma diciamo, non sono molto ferrato Punto primo Asticello Creatura custode degli alberi È immensamente difficile da riconoscere essendo piccolo L'altezza massima è di 20 cm Ed è apparentemente fatto di corteccia e legnetti Con due piccoli occhi marroni Il libro più piccolo che possiedi Allora, il libro più piccolo che possiedo è Andate a pensarci Ah, io questo book tag non l'ho preparato Quindi adesso io guarderò dietro e sceglierò al momento Quindi è proprio fresco fresco Decisamente me ne ero scordato Ma il libro più breve che possiedo è Kindred Spirit di Rainbow Rowell In quanto è davvero cortissimo Sono esattamente Non trovo le pagine Ecco, 75 pagine giù di lì Ma la cosa che dal video non rende È che è proprio piccolo Non solo perché è corto Ma proprio paragonato a un libro Proprio la grandezza anche di stampa È minuscola Cioè è molto piccolo Non sembra un libro Sembra più un... Beh no, sì, sembra un libro però È davvero minuscolo Quindi Kindred Spirit è il mio osticello Punto 2 Celestino È un insetto originario dell'Australia È lungo circa un centimetro È di un vivace blu zaffiro Le sue ali sono fissate in cima alla testa E girano molto in fretta E all'estremità del corpo Rica un lungo pungiglione sottile Chi è appunto da un celestino Soffre di vertigini seguite da levitazione Qual è secondo te una lettura leggera? Allora, una lettura leggera Allora, per questo punto molti saranno in disaccordo Molti mi uccideranno Molti non lo considerano neanche un libro Ma la lettura più leggera che io ho fatto è stata Io sono così di Miley Cyrus Questa è la sua biografia L'ho letta in forse tre ore Non è effettivamente corto Perché sono 208 pagine Oddio, sì, è corto Però, tenendo conto che è scritto così È una lettura davvero leggera Ovvio, se vi piace Miley Cyrus è una lettura leggera Se non vi piace è pesantissima perché non vi interessa A me piacendomi molto È stata davvero leggerissima Cioè, ragazzi, è interessante per quanto mi riguarda È leggera perché è proprio strutturata bene Perché non è proprio un libro È un libro Poi ci sono delle parti proprio dette da Miley Cyrus In alcune interviste Poi ci sono delle foto Quindi è molto... È anche abbastanza interattiva Ti tiene lì Non è noiosa E quindi è stata una lettura assai leggera Per quanto mi riguarda Terzo punto Demigus Spero si dica così Vive in Estremo Oriente Ma è molto difficile da trovare Perché è in grado di rendersi invisibile Quando minacciato Riesce a prevedere ciò che avverrà Entro breve tempo E quindi Per catturarlo si consiglia di non essere prevedibili Quale libro ti ha colpito? Perché gli avvenimenti presenti nella storia Ti hanno colto di sorpresa? Allora, qui la risposta ce l'ho proprio diretta Non posso che non citarvi Il Fantomatico Multiversum di Leonardo Patrignani Perché io questo libro Me ne sono completamente innamorato Lo sapete L'ho iniziato Ormai tantissimi anni fa Però Ho detto Vabbè È uno scrittore italiano Si parla di un argomento Di cui non ho mai letto Che poi mi sono innamorato Vabbè Iniziamolo Non avevo molte aspettative Se devo dirvi la verità Ma dopo il primo capitolo Oddio Ma cosa sta succedendo? Continuo a leggere Continuo a leggere Tutto quello che è successo In questo libro Davvero bellissimo E quindi Se ho deciso di scegliere Multiversum Vorrei Io vorrei rileggere Tutti i libri che ho letto Ma visto che ne ho da leggere Il triplo Di quelli che in realtà ho letto Non posso permettermelo Ops Quindi Viviamo di ricordi Di memorie Multiversum L'Erupent è una grossa bestia grigia Affi Oddio L'Erupent è una grossa bestia grigia Africana Di grande potenza Il suo corno Può perforare Qualsiasi materiale E contiene un fluido Mortale Che provoca Che provoca L'esplosione di qualsiasi cosa Venga trafitta Qual è un libro Che ti ha segnato profondamente Positivamente O negativamente Oddio Questa ha già una domanda Un po' più seria Devo pensarci un attimo Ma tanto per voi L'attimo non c'è Perché io taglio E vi arriva diretto il libro Vedete Io vi do anche in retroscena Di quello che in realtà Ci sta nel video Quindi top Allora ragazzi La scelta di questo libro Non è stata affatto facile Non vorrei nemmeno Sollevare Polveroni Inutili Ma un libro Che mi ha colpito Negativamente È stato questo 50 sfumature di rosso Mi sembra di ricordare Fosse stato questo Perché vabbè Di tutta la saga Non parliamone Io voglio parlare Io comunque questo L'ho letto nel 2010 2011 Non ricordo più Quindi Ero forse in Prima super No non mi ricordo più Vabbè Ero molto più piccolo Di adesso E quindi E quindi Non mi aspettavo Non mi aspettavo Questa cosa E cioè Non voglio dirlo Perché chi non l'ha letto Non può capire Però Il passato di Christian Grey Soprattutto Come si può Trattare un bambino Come è stato trattato lui Poi anche La sua adolescenza Come può una persona Rapportarsi Con un Non mi ricordo più 12 anni Quanti anni avesse In quel modo Cioè Mi ha davvero lasciato Schifato Non schifato Perché non mi è piaciuto Ma proprio perché Queste cose succedono realmente E mi rendo conto Che nella saga 50 sfumature Questa sia una minima parte Perché è tutto Incentrato Su il lato Passatemi la parola Sessuale Però Non la sto elogiando Come saga Però io quando l'ho letto Che ero comunque più piccolo Mi sono un attimo Mi sono sentito un po' male Cioè Non era Non è stata una lettura Così Quindi questo Quinto punto Grafforn Grosso Di un viola grigiastro Con la gobba Ha due corna molto lunghe E affilate Cammina su grosse zampe Dotate di quattro dita Ed è di natura Estremamente aggressiva È un animale molto raro Hai un'edizione Che non si trova più in giro Sì ce l'ho Ce l'ho Ahimè purtroppo Non si trova più in giro Ma ce l'ho L'accuso disco Come se fosse oro Ahimè non è per essere ripetitivi Ma giuro che ve la mostro E poi basta Questa Il segreto del bosco Perché il segreto del bosco Edizione singola Non si trova più in giro Perché hanno Non la ristampano più Perché adesso La Newton Compton Ha ristampato un volume Unico Contenente i primi quattro volumi E quindi questo Il primo volume Di Netschool Non si può più trovare A meno che In alcuni mercatini O su siti Che vendono libri usati Però è fuori catalogo Gli altri volumi Quindi secondo il terzo Il quarto Sì Questo purtroppo Quindi furbescamente La Newton Compton Vi fa comprare Il volume unico Con dentro tutto Però questo Non è più in produzione Sesto punto Okami Okami Ok Okami Come si dirà Vabbè questo Ragazzi Okami Vabbè lui Okami è una bestia Piuttosto schiva Ma che diventa aggressiva Nei confronti A tutti coloro Che gli si avvicinano Soprattutto in difesa Delle sue uova Dal gucio fatto Dell'argento Più puro e liscio Inoltre è in grado Di occupare Qualsiasi tipo di spazio Un libro Che leggeresti In qualsiasi situazione Allora è un libro Che leggere in qualsiasi situazione Ma se oggi mi sento Ho l'estro originale Non voglio farvi vedere Sempre le solite cose Come sempre Quindi un libro Che io leggerai In qualsiasi situazione Se hai già intravisto È Alice nel paese delle meraviglie Attraverso lo specchio Di Lewis Carroll Perché lo leggerai In qualsiasi situazione Perché questo è un libro Secondo me Che non è che devi avere Quel periodo In cui vuoi leggere Quel genere Devi essere ispirato È lungo Quindi non ho voglia No È un libricino Che si legge tranquillamente A chi non piace Questo libro Diciamoci la verità Se qualcuno ti chiede Cosa vuoi leggere Che gusti hai Non lo so Questo perché L'ho letto Esattamente un anno fa Perché l'ho letto Prima di Capodanno E quindi Questo Lo ritengo Un libro che leggerei In qualsiasi situazione Perché magari Non ho voglia di leggere Un fantasy Un thriller Un distopico Quindi io vado Di Alice nel paese delle meraviglie Poi dai Io sono innamorato Di questo mondo Davvero bellissimo Chi non può Ma adesso Se qualcuno Non ama Alice nel paese delle meraviglie Commenti E se qualcuno Non l'ha ancora letto Beh rimediate Ma cosa state aspettando Qua il tempo passa E voi dovete leggerlo Assolutamente Che bello Che bello Poi io morivo da ridere C'erano dei punti Che proprio io Come uno scemo Mentre lo leggevo Ridevo Questi sono i miei Mi problemi Settimo punto Pur vincolo Questa creatura Questa creatura È simile a un topo Ed è abbastanza aggressivo Anche se non è molto bello Le appendici che ha sulla schiena Simili a un anemone Simili a un anemone Oh santo cielo Ripartiamo Questa creatura È simile ad un topo Ed è abbastanza aggressivo Anche se non è molto bello Le appendici che ha sulla schiena Simili a un anemone Di mare Grazie Stavo già facendo abbastanza fatica A leggere questo punto Magari non si sente Sta passando polizia Ambulanza Vigili del fuoco Tutto Oddio Ripartiamo Questa creatura È simile ad un topo Ed è abbastanza aggressivo Anche se non è molto bello Le appendici che ha sulla schiena Simili a un anemone Di mare Se messe in salamoia E mangiate Accrescono la resistenza Incantesime e maledizioni Ah interessante Difficilissimo da leggere E da capire Ma una volta finito È interessante Qual è un libro Che hai imparato Da apprezzare durante la lettura Quindi io questo Lo leggo come un libro Che inizialmente Crick crack Che però poi leggendolo Wow Quindi Mi stupisco da solo In questo momento Perché sto per mostrarvi Un libro che penso Di non avervi mai 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 Ma mai Fatto vedere Forse nemmeno nominato Perché è l'unico horror Che io ho letto Che io ho letto A me l'horror Non piace L'ho iniziato un po' Cioè Molto 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 Titubante Addirittura All'inizio Non mi ha neanche fatto impazzire Leggendolo però Poi mi nasceva sempre Quel Voglio sapere Voglio sapere come va a finire Una volta che l'ho finito Ho detto basta Mai più Mai più Però comunque Mentre lo leggevo Avevo questo Voglio sapere Oddio no Non voglio andare avanti Voglio sapere No Quindi Penso che questo sia proprio Azzeccato Quindi vi mostro Carrie di Stephen King Vi faccio vedere Una copertina bianca E Sì Molti dicono Che non è neanche Il suo più gran capolavoro Carrie Però Davvero Non consigliatemi Nemmeno Perché Non li leggo Non fanno davvero Per me Ottavo punto Il mio preferito Snaso Soffice nere E dotata di un lungomuso Questa creatura Sotterranea Ha una predilizione Per tutte le cose luccicanti L'edizione più appariscente Che possiedi Ragazzi Piccola parentesi Io questo animaletto Lo adoro È il primo che si vede Mi sembra nel film Ed è qualcosa di fantastico Se riesco poi Vi metto anche le foto Di tutte queste besticciuole Comunque Cosa abbiamo detto L'edizione più appariscente Che possiedi Ok Allora Purtroppo io non possiedo Quelle edizioni gigantesche Dei libri Tipo le edizioni illustrate Di tutti i libri Di Harry Potter Per ora i primi due Oppure tutte queste cose Possiedo dei libri Normalissimi E reputo che il più Com'era? Non ricordo più Reputo che il più Appariscente Sia Illuminate Perché Per come è fatto Anche Mostrando la costina È il primo Che forse Il libreria Ti cade l'occhio Poi ragazzi È davvero bellissimo Sì no È il più Appariscente Anche perché Oh Mi stava volando Anche perché Dai ragazzi Questa sovraccoperta Così Poi sotto È fatto tutto In questa maniera No sì È decisamente Illuminate È decisamente Il libro più Appariscente Che possiedo Che tra l'altro Adesso sto leggendo Sto leggendo Dov'è? Guarda Queste inquadrature Sono bellissime Sto leggendo Il dominio del fuoco Sono abbastanza All'inizio Però mi sta piacendo molto E appena finisco Il dominio del fuoco Vado di Illuminate E presto sul canale Avrete ambe e due Le recensioni Ce la faremo Ce la faremo Ovviamente si parla Un po' più là Devo prima leggerli Madonna La simpatia che sto mettendo In questo video È qualcosa di disarmante Poi Nono punto Tuono alato Il tuono alato È un grande uccello Nativo dell'Arizona Che grazie a un battito d'ali Riesce a provocare una tempesta E che riesce a percepire il pericolo Una delle case di Ilvermorny Porta il nome di questa creatura fantastica Un libro che sconsiglieresti Da cui vorresti mettere in guardia i lettori Oddio lo sapete che a me non piace screditare i libri Però Purtroppo ragazzi Io ho letto soltanto Lo sapete Due libri Che non mi sono piaciuti Per fortuna Perché prima di leggere un libro Faccio un'accurata ricerca Questo libro avevo molte aspettative Come per l'altro E vabbè Non facciamo discriminazioni Io ve li mostro entrambi Perché se no non mi sembra giusto Già a me non piace fare queste cose Comunque io Per forza di cose Devo mostrarvi questi Perché non mi sono piaciuti Lo sapevate Questo l'ho reputato Molto lungo Molto noioso Abbiamo allungato il brodo Per nulla Questo l'ho reputato Molto lungo Molto noioso A parte pochi punti Allungato il brodo No Perché era necessario Però È uno di quei libri Che a mio parere L'inizio È accantivante Le 300 pagine Le 300 pagine Nel mezzo No Le ultime 100 Ma anche i 50 In questo caso Ti lasciano col fiato sul collo Per poi finire Con un cliffhanger Assurdo Tu sei costretto A comprare il terzo Per quanto riguarda La folla in saga Non mi sono fatto incantare Di questo Anche perché Sapendo come è strutturato il terzo Questo Gli darò una possibilità All'ultimo volume Però questo Mi ha davvero 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 Deluso tantissimo Quindi purtroppo Che ho mostrato Questi due libri Mi sono rattristato Ho rattristato Non so come si dica Pazienza Decimo Cinque Decimo E ultimo punto Veenottero Un po' farfalla Un po' rettile Il Veenottero Vive nel suo verde Bozzolo Ma quando dispiega le ali Diventa irresistibile Risulta imbattibile Per cancellare Risulta imbattibile Per cancellare I brutti ricordi Qual è il libro Di cui non ti ricordi Il finale O alcuni passaggi Caspita Quindi un libro Che ho letto Tantissimo tempo fa Ce l'ho Per ricollegarmi All'inizio del video Quando vi ho parlato Di Alessandra Che stava leggendo Blu di Kirsten Gier Il caso ho voluto Che adesso Io vi mostrassi Il blu di Kirsten Gier Perché io di questo libro Vi giuro Di Red mi ricordo Che mi è piaciuto E cosa succede In Green Idem di questo Mi ricordo Che mi era piaciuto molto Ma ve lo sapete Che se mi chiedete Cosa succede in blu Io non ve lo so dire Mi ricordo che mi è piaciuto Anche perché La copertina È la mia preferita Delle tre Perché io odoro il blu Però non penso Che io abbia dei ricordi Solo per la copertina Mi ricordo che anche La storia Mi è piaciuta molto Solo il terzo Mi aveva lasciato un po' Perché la storia All'inizio ci golava Però poi ha preso Un bel ritmo Quindi io in blu Non mi ricordo Forse leggendo la trama Non lo so Però così Senza leggere niente E ricercare alcune informazioni Non mi ricordo assolutamente Nulla Proprio Il vuoto più totale Avete presente Ecco blu Questo non vuol dire Però che non mi sia piaciuto Mi era piaciuto molto Pazienza Bene ragazzi Il book tag è finito A me è piaciuto davvero tantissimo Franky ha avuto un'idea Davvero originalissima Spero che le mie risposte Ti siano piaciute Magari è stato un video confusionario Non lo so Però Questo è stato Io ti ringrazio ancora tantissimo Per avermi taggato Vi lascio qui nell'info box Tutte le info Che sono necessarie Perché merita davvero tantissimo Mi raccomando E poi un'ultima cosa Prima di andare via Prima di andare via Un'ultima cosa Perché se non mi seguite Se non mi seguite su Instagram Cosa che dovreste fare Vi lascio il link sotto anche di questo Perché è su Instagram Che interagisco di più con voi Ho fatto ultimamente Delle Instagram stories In cui vi dicevo Che Fra qualche settimana La programmazione video cambia Non saranno più il lunedì e il venerdì Ma saranno il lunedì Il mercoledì e il venerdì Perché essendo sotto Natale Insomma ragazzi Voglio farvi tantissimi regali Però come ho già detto Non posso regalarvi un libro a tutti E quindi vi pubblico Un video in più alla settimana Però non è un video classico Quelli di 5-10 minuti Che poi mi adurano tutti 10-20 E' un video un po' più tema natalizio Quindi io vi lascio queste cose Ho messo anche su Instagram Una foto con cui vi lascio il titolo La tipologia di video Che è un po' criptata Insomma andate a vederla Se volete indovinare L'ho fatto o non l'ho fatto? Non mi ricordo Vabbè se non l'ho fatto Provvederò E nulla Spero che questa idea vi piaccia Vi lascio un po' in suspense Perché voglio che sia una sorpresa E nulla ragazzi Io adesso vi saluto Spero che il video vi sia piaciuto E nulla Ci vediamo alla prossima Ciao